Cari amici, oggi uno potrebbe parlare di tante cose, del terrorismo, dell'economia, però io ho preferito prendere tre notizie che possono sembrare marginali, ma che ci raccontano meglio di qualsiasi editoriale, che oggi bisogna stare dalla parte giusta. Oggi, come sempre, bisogna essere progressisti, de sinistra, femministi, non so come definirli, e io ve ne prendo tre casi. Il primo caso sono i tenori del volo, sono tre ragazzi siciliani simpatici che hanno fatto una grande fortuna perché hanno cantato l'opera in maniera sdrammatizzante, i cultori dell'opera dicono che non sono tenori, ma io non voglio entrare in questo merito, hanno venduto milioni di dischi in tutto il mondo, come faceva Pavarotti. Sono stati per questo, oggi lo leggo sul Corriere della Sera, invitati alla festa presidenziale, quella per l'inaugurazione della nuova presidenza della Repubblica Americana di Donald Trump, così come lo fu, pare, Bocelli, che per Trump andava a cantare nella sua casa privata a Miami a suon di centinaia di migliaia di euro. Bene, sono stati invitati e hanno rifiutato. Perché hanno rifiutato? Perché è perfettamente legittimo, non si è obbligati ad andare alle feste pubbliche e istituzionali degli Stati Uniti. Il motivo degli rifiuti è che, dicono, loro non condividono il populismo le idee xenofobe con le quali Trump è stato votato. Un po' come Hillary Clinton diceva che gli elettori di Trump erano deprecable, erano che facevano schifo, erano deprecabili, mettiamola così. Ecco, io penso che sia deprecabile l'atteggiamento di tre tenori italiani che si rifiutano di avere questa presenza dell'Italia, che loro rappresentano attraverso l'opera, attraverso le loro canzoni, a uno degli eventi che sarebbero stati più incredibili. Però loro che cosa hanno dalla loro parte? Per la quale ricorrono proprio questi anni una cosa più o meno simile. C'hanno dalla loro parte il fatto che sono dalla parte giusta. Trump fa schifo per i giornali che contano, per il New York Times, per Repubblica, per i giovani che stanno sulla rete, quelli che fanno le fake news che poi dopo vorrebbero essere censurate dall'establishment. Insomma, in questo polpettone favoloso in cui io non mi ritrovo, loro non dovevano andare da Trump, perché Trump è il male, come lo era Reagan e come lo era il Cile di Pinochet, che quello probabilmente qualche male in più rispetto a Trump lo faceva, per il quale l'Italia non doveva andare, vi ricorderete, ricorre proprio quest'anno, a giocare la Coppa Davis insieme a Pietrangeli, che bene fece ad andare a giocare la Coppa Davis. Insomma, quello che io dico è bravi, ragazzi, siete stati proprio bravi, tosti, avete fatto un sacco di milioni e siete proprio l'orgoglio di questa Italia che resiste a Trump. Mi viene molto da ridere perché io invece ovviamente non la penso così, penso che sia ridicolo il loro atteggiamento politicamente corretto e mi fa schifo e lo trovo ipocrita. Oggi di questo trovo traccia soltanto in due pezzi, uno di Annalisa Chirico, favoloso oggi sul giornale, e l'altro favoloso di Marco Palombi sul fatto. Entrambi, sapete chi prendono per il culo? Prendono per il culo gli stilisti di tutto il mondo che si sono rifiutati di vestire Melania Trump. La moglie di Trump non può essere vestita dagli stilisti ed è divertente la battuta di Palombi che dice immagino la resistenza del nappista che si occupa delle nappe, Tom Ford, contro i vestiti di Melania Trump e quelli di Gucci e quelli di Saint Laurent e quelli di Whitton, tutti contro Melania Trump perché evidentemente come il volo penseranno che sono degli sfruttatori degli xenofobi e dei populisti. Ricorda Palombi, così come ricorda anche la Chirico, che queste case di moda sono le prime invece ad andare a sfruttare in Bangladesh e ovunque, ricorda Palombi il basso costo del lavoro per fare più profitti. Veramente ridicoli, meno ridicoli di tutti è il grandissimo, come sempre Stefano Gabbana, come sempre numero uno, a Dolce Gabbana non gliene fotte nulla di questi politicamente corretti, tant'è che dopo che ha visto che il suo vestito era stato indossato da Melania Trump, l'ha visto su un Instagram, cioè su una foto ma pubblicata su Instagram, sapete che ha fatto Stefano Gabbana? Ha ringraziato Melania Trump perché gli ha comprato il suo vestito. Bravo Stefano Gabbana, se ne è fottuto di tutta la polemica che è nata sulla rete perché lui si è congratulato con Melania che ha comprato il suo vestito, io se potessi a Melania Trump venderei il mio olio, il mio vino, tutto come lo venderei a chiunque, perché vendere il mio prodotto vuol dire dare lavoro alle persone che lavorano per me. Questo di aver pensato Stefano Gabbana è qualsiasi imprenditore che deve essere solo onorato che i suoi vestiti siano utilizzati nelle cerimonie. Ancora, il politicamente corretto non pensate che ci sia soltanto in Italia, anzi l'Italia ne è come sempre la provincia più ridicola. Apple e il suo capo Tim Cook proprio oggi ci sono su tutti i giornali la commemorazione del decennale dell'iPhone, quel meccanismo micidiale che io non ho e che funziona molto semplicemente ed è la grande invenzione di Steve Jobs, quello che resta un genio della tecnologia e che io penso che sia clamorosamente straordinario, uno di quei pochi geni che nascono raramente nella storia della tecnologia. Tim Cook oggi più che contraddistinguersi per la sua genialità, posto che l'unica sua genialità è dare un numero diverso all'iPhone che si è inventato Jobs e un numero diverso all'iPad col quale sto parlando ora che si è inventato Jobs, Tim Cook invece è favoloso perché è aperto ovviamente alle coppie gay, è aperto alle coppie arcobalè, non è affatto una grande battaglia contro l'FBI per la tutela della privacy quando fa comodo a loro, io condivido completamente tutte queste campagne, però c'è un piccolo particolare, oggi lo ricorda mi sembra il Corriere della Sera, quando in Cina chiedono a Tim Cook di non mettere nel negozio virtuale l'applicazione del New York Times, quella che parla male di Trump, aperta la parentesi e chiusa la parentesi, sapete che fa Tim Cook? Accetta, quindi in Cina non si può scaricare il New York Times, non si può leggere il New York Times, quindi accetta la censura dei cinesi nel New York Times. New York Times che oggi ricorda il Corriere della Sera fa un'inchiesta in cui racconta i miliardi regalati dal governo cinese per costruire la fabbrica che produce gli iPhone e che non è della Apple ma che ha la Apple come unico suo committente. Insomma, quando si tratta di soldi la Apple è vicina al governo cinese e ha la mancanza di libertà, questa è la sintesi che può fare un po' il Corriere non gli fa comodo, fa i politicamente corretti. Mi chiedo se in Cina, come immagino, invece di censurare il New York Times e come dice la Apple noi rispettiamo le leggi locali, che cosa fa? Rispetta le leggi locali la Apple in Arabia Saudita contro il fatto che le donne guidino o contro la legittimità degli amori omosessuali? Che cosa fa? Accetta la Apple che in alcuni paesi arabi del Medio Oriente siano uccisi i sodomiti, come li chiamano ancora loro? Oppure questi criteri li adotta soltanto in California e poi li accetta nel resto del mondo? E poi accetta la censura cinese e poi in America ci viene a spiegare la libertà di non dare le sue informazioni all'FBI e più importante del controllo della sicurezza? Io trovo che ci sia anche in questo il tratto politicamente corretto insopportabile per il quale ha vinto Donald Trump. C'è un filo rosso che regua quindi quello che abbiamo detto, i tenori non vanno da Trump, Apple non vota Trump e io tra i tenori e Apple sto sempre con Trump su queste due storie. Ce n'è una terza che leggo e che oggi su tutti quanti i giornali sapete qual è? È la storia straordinaria della CGL, ci hanno rotto le balle così e stanno facendo un referendum contro i voucher, oggi la CGA di Mestre la troverete domani sui giornali racconterà la verità sui voucher come ha fatto su Repubblica Alessandro De Nicola, come ha fatto Oscar Giannino sul Messaggero, come hanno fatto tutti i giornali liberali e hanno spiegato come i voucher in realtà non siano lo sfruttamento del lavoro nero, cosa che ha fatto la CGL a Bologna, mi sembra Bologna, perché la CGL dei pensionati a Bologna ha utilizzato per 50 non dipendenti pensionati che dovevano fare dei lavorati di volontariato questi benedetti voucher. Allora oggi sui giornali c'è scritto ma scusa CGL voi fate il referendum contro i voucher e poi utilizzate i voucher, voi stessi dovreste accoggervi che i voucher possono essere utili per far sì che non ci sia il lavoro nero ma che si possano remunerare con l'Inps e con l'Inal i vostri collaboratori saltuari. Ecco anche la CGL, la favolosa CGL è quella che da una parte fa il referendum politicamente corretto ma dall'altra nel segreto delle sue sezioncine bolognesi che cosa fa? Ovviamente utilizza quello che lei vuole che si bandisca. È il mondo del politicamente corretto. Nel frattempo, e con questo concluderei, ci sono due cose su cui concluderei, ovviamente del terrorismo ce ne parlano tutti quanti, ma la cosa straordinaria del terrorismo a proposito del politicamente corretto, vogliamo cacciarli via, non li vogliamo più, anche il ministro degli interni ha detto che devono essere fatti i controlli, oggi c'è la notizia che nelle carceri si radicalizzano, l'ultima riga di Repubblica, che è anche titolo di Repubblica che riguarda il ministro Minniti, che ha sostituito Alfano, dice l'equazione tra immigrazione e terrorismo è falsa. Complimenti a Minniti, quando noi avremo le città come le baglie francesi e quelle belghe, cioè fra qualche anno, se noi continueremo ad avere immigrazione incontrollata e avremo centri in cui l'immigrazione non viene gestita come in Veneto, probabilmente questa equazione esisterà. Quello che non esiste oggi sicuramente esisterà domani, però non si può dire, come non si potrebbe dire che l'emergenza immigrazione esisteva qualche mese fa. Grazie a Marco Travaglio, oggi sul fatto nel suo editoriale in cui prende per i fondelli l'autority contro le bufale, tante bufale che vengono fatte sui giornali, non sono censurate, mentre quelle sulla letta adesso diventano improvvisamente un problema, io l'ho scritto altre centomila volte, ve l'ho detto centomila volte, lo scrive anche oggi come si chiama Travaglio e tra le altre cose prendendo per i fondelli il conte Mascetti e le sue incapacità manifeste, il RAI dice è riuscito tra le altre cose a chiudere Ballarò e Virus due talk di successo, quindi aver definito di successo da uno dei grandi nemici intellettuali del mio liberismo il talk Virus mi fa grande piacere. Oggi la stampa mette su i numeri del fallimento del conte Mascetti, del quale noi ora che lavoriamo a Mediaset, godiamo come dei ricci, cioè Mediaset dovrebbe inventare otto conti Mascetti per poter prosperare, visto che oggi i numeri li fa la stampa, 2% di share in più, che non è poca roba per le reti Mediaset, cedute dalla RAI. Insomma, complimenti al conte Mascetti che oggi mi sembra il messaggero su Repubblica dice, forse era Fantana Rosa su Repubblica, dice che dovrà fare i conti con l'austerity e quindi dovrà fare tagli incredibili, visto i soldi che ha speso e buttati nel cesso fino ad oggi. Per oggi è tutto, buona epifania e la stregaccia oggi è venuta e ci ha portato per mano Apple, Tenori e CGL. Ciao!